Buongiorno Agostino, mi hai in mente che stamattina non vieno a dicembre di spesso tutte e due le gambe, sto morendo di storm, ma questo resta tormenta, che la parola? Agostino, ti voglio bene? Allora, se non mi porti Paolo stamattina, io a Marina non te la parola di vedere me più, quindi è meglio che portate le palle qua. Tutta le palle qua.